Siracusa ha pregiudicato e evade dai domiciliari, arrestato dai carabinieri. Un siracusano di 43 anni con diversi precedenti per furto è stato arrestato poiché responsabile di evasione. I carabinieri della sezione radiomobile di Siracusa nel corso dei controlli dei soggetti sottoposti a misure arrestative hanno riscontrato l'evasione dagli arresti domiciliari dell'uomo che si era allontanato da casa senza alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. I militari l'hanno rintracciato poco dopo mentre stava rientrando in casa, l'hanno così arrestato e risottoposto ai domiciliari.